Tutti assi a scureggi Mi parla di business qua in ultropassaggio Un milione di dollari Che vita ragazzi Avevo preso il comando da Iaguzzi C'è un mio amico lì dalla finestra E poi gli dico di mandare i fax Il nostro lavoro per noi è finito E' pesante come lavoro questo Mare manda due fax agli inglesi Io ho una prenotazione per 8 persone Un milione di dollaro Ragazzi Il momento è che devo scurare un attimo la pasta Perché dobbiamo la macchetta Dove è cascare l'acqua Ragazzi vedete che vita stressante che facciamo Che vita stressante E se non la faccio Ragazzi ecco se volete fare delle belle vacanze La domanda è una ragazzi Ma chi ci ammazza? Ma chi ci ammazza? Vabbè Marco Vi saluta Walter vi saluta E Max vi saluta E se vedeva alla prossima Ciao ragazzi Che favola eh